Un saluto a tutto il gruppo, siamo qua oggi tutti riuniti per fare un altro appuntamento per le lezioni che servono a istruire tutto il gruppo, tutti i pazienti e quindi ampliare quella che è la University che serve a divulgare, a fare informazione corretta e non confondere le idee, ma chiarire sempre di più i concetti che riguardano la riabilitazione della bocca. Come sempre io apro con le domande del gruppo, se voi state guardando qui e avete delle domande scrivete qua e io posso dare risposta. Ci sono anche pazienti qua presenti che non inquadro, posso anche inquadrare, faccio vedere che c'è la sala o che non vogliono che inquadri, eccoli là, vi faccio vedere, l'aula c'è, noi stiamo tutti qua pronti, di che parliamo oggi? C'è qualcosa in particolare che vorreste chiedermi, qualcosa che non vi è mai stato così chiarissimo, qualcosa che secondo voi è un qualcosa che si potrebbero domandare anche altri a casa e potrebbe aiutare a chiarirvi le idee meglio. Domande? Eccolo qua, è arrivato mio zio, c'è Inga che scappa. Allora questa è una protesi, se non ci sono domande io parto. Ok, questa che tipo di protesi è? Vediamo il livello di preparazione. Alzata di mano. Quattro for, all on for, all on for, all on for. Quattro, perfetto. Quattro. All on for è questa, ok. Come vi sembra sta protesi? Mi sa troppo bene. Ma quelli non è per la che faccio più i bottoni, perché mi sembrano fuori quegli agganci lì. Poi, questa, allora andiamo sul gruppo, per esempio, dottori, vado sul gruppo dottori e vi apro un'altra fotografia, vediamo un attimo se troviamo fotografie di un'altra protesi, per esempio nostra. Ok, questa è una protesi fatta da noi. Viene. Guardate, allora, questa protesi è questa protesi. Questa protesi è questa protesi. Questa protesi è questa. Che differenza c'è tra questa e questa? Parlo di macro differenze, concettualmente, no? Questa. Penso nella dentatura. No, acqua, fuoco, gengiva, gli impianti, sì, qua ce ne sono quattro, qui ce ne sono sei. Ma c'è anche uno nel punto che passa? Sì, quello dipende perché l'impianto va dove c'è l'osso. Quindi se l'osso lì ne aveva perso tanto, lì da quel lato sono in alto gli impianti e ci sarà anche più gengiva simulata per compensare. Dall'altro lato invece ha perso meno osso e c'è meno gengiva per compensare. Qua invece c'ha una forma diversa la gengiva. Sì, sembra che raccoglia... Scavata? Sì. Qua? Non lo so. No. Questa raccoglie? No. No. Questa? Questa sì. Viene capito, perché il cibo puoi filtrarsi dentro e rimanere lì. Bravo! Dopo quanto perdi gli impianti qua? Subito, dopo due anni. Massimo due anni. Un'infezione? Bravo, ti viene una grave infezione. Dai. Ok, sono dettagli, sono dettagli, però sono dettagli che poi fanno la differenza tra aver buttato i soldi e trovarsi un danno biologico, un secondo, un reintervento chirurgico di una rinoplastica andata male. Delle volte le chirurgie vanno male perché sono sbagliate le medicazioni, i medicamenti, oppure perché è sbagliata la selezione dell'intervento rispetto a quello che dovrebbe essere fatto. Per esempio, se va fatto un intervento di un certo tipo, chi non lo fa di professione, magari non fa tutti i giorni quell'intervento, ti dice qua va fatto questo. Magari è più portato a fare quello che fa tutti i giorni. Ok, ma non è detto che quello che poi fa sia esattamente quello che ci voleva in quella condizione. Poi cosa vediamo qua? Provo adesso a zoomare. Ok. Questa, vedete questa parte qua, queste simulazioni? Ok, andiamo dove che stavo, perso il segno, andiamo su, qua pure, guardate questa protesi. Concava o convessa? Questa sembra convessa. Convessa. Deve essere una protesi autodetergibile, se dici. Autodetergibile significa che quando io parlo, il movimento di labbra, lingua, la produzione della saliva, puliscono quello che c'è in bocca, per esempio i miei denti. Ma se c'ho una protesi che non è come un tetto, tu immagini un tetto della casa così, si sfonda un tetto della casa spiovente. Questa non è autodetergibile. In più se faccio uno zoom si vede chiaramente che questa è resina. Questa è plastica. Ok. Questa è ceramica. Questa è composito. Scusa, composito. Questa è zirconia. Questa è plastica. E i denti sono plastica. Ok. Non l'avevate, non ve ne siete accorti. Gli addetti ai lavori se ne accorgono. Io se vedo una foto capisco subito che materiale è. Questa è plastica. Questo è il foro dove viene stretto. Scusi, ma mi è in grado. Sì. Praticamente quell'impianto che va dentro, cioè la ditte, è in plastica? No. L'impianto è questo. È titanio. Ok. Fuori i denti sono di plastica. Ok. Sono dei denti in plastica avvitati sopra gli impianti di titanio. Questa è una protesi che noi facciamo come protesi provvisoria. C'è qualcuno che ha provvisori avvitati qua in stanza? Ancora no. Ancora no? Qualcuno è giù in clinica? Ok. Queste noi le facciamo per un tempo di guarigione, ma poi si buttano. Dopo sei mesi sono protesi provvisori. Si buttano, vanno buttate queste. Perché la plastica è un materiale morbido che si consuma e serve ad assorbire gli urti. Se va... Perché? Voi direte, ma sono così terroristi a fare questi lavori così? Perché lo fanno per le stesse? Perché? Perché? O non li sai fare, o li hai iniziati a fare da poco. Ok. Questa è una pagina che io spesso prendo come esempio. Se io vado a vedere altri casi, andiamo a vedere altri casi affollamento. Eh, ha cambiato tecnica. Prima invece facevano i perni lunghi dove uscivano dalla gengiva e incollavano la protesi sopra. La protesi ha dei fori dove entrano dentro quei perni con la colla, col cemento gliela bloccavano sugli impianti. Non è un protocollo internazionale. Ok. Le capsule. No, perché io sto facendo da mesi, un paio di mesi, ho iniziato a sbugiardare e far vedere. Gli hanno avvisati. Ha detto ok, facciamoli avvitati. Non li sanno fare. Ok, farli avvitati non vuol dire prendere le componenti e avvitare, ma è concettualmente capire come va fatta la protesi. E non puoi farle di plastica perché si rompono. Però siccome loro devono usare quei pilastri, non più questi pilastri, è fare sopra un ponte in metallo e ceramica incollato. Hanno fatto la domanda, sto ipotizzando, ok, prendiamo i cosi come si usano, devi immergerli nella resina e nella blocchi. Ok. Quindi loro prendono, torniamo sull'immagine di prima. Ricordatevi di questi pilastri, ok, prima facevano questa operazione. Costano poco questi pilastri, ok. Se invece usi gli altri multi unit abattamenti, si chiamano gli snodi per avvitare, costano di più il doppio. Se, e in più devi usare certi tipi di impianti, ok, non li fanno per tutti gli impianti. Sono quelli che noi chiamiamo per esempio i premium, che da noi costano un po' di più. Allora, cosa fai? Sì, faccio i denti avvitati, però siccome ho dei costi, non posso aumentare i prezzi, perché se no il paziente mi scappa. Quanti impianti fai? Di più o di meno? Risparmio sul numero. Metto meno. Però li faccio avvitati, però non ho condizionato la gengiva, ok, e ho una gengiva che è convessa. Vedi che la gengiva è convessa. Ok, se io ho questa situazione, perché prima con i provvisori, che anche quelli devono essere avvitati, non ho condizionato la gengiva. Faccio come se la gengiva, faccio dei bozzetti dove poi si vanno a pigiare le teste dei denti. Vediamo se vi faccio vedere. Per esempio, vedi che qua c'è il bozzetto, qui c'è il bozzetto, qui c'è il bozzetto. Questi servono a condizionare la gengiva, questi bozzetti. Qui dietro ci sono gli spazi per fare entrare le setole morbide dello spazzolino morbido e pulire sotto la protesi. Quella invece è impossibile da pulire, perché anche lo spazzolino morbido, soft, qua non riesce a pulire fino a quella zona. Questa non la riesce a pulire con lo spazzolino soft. Per fare le protesi avvitate, come le facciamo noi, c'è bisogno di tecnologia, che è la tecnologia SLM. Per esempio, andiamo sul gruppo Exocad Expert, vediamo, questo è il gruppo dei designer più esperti che c'è al mondo. Questo è il gruppo, qua ci sono, guardate i membri, 31.539 membri. Qua ci sono tutti i designer di protesi, i più bravi, veramente i più bravi al mondo. Ok, dove si fanno studi, si fa un sacco di ricerca con questi gruppi. Questi sono i nostri pazienti. Questi sono i nostri pazienti, andiamo su discussione. Noi facciamo diffusione su scala planetaria poi di quelli che sono i nostri casi, i nostri pazienti. Voi non li vedete, però noi li mandiamo nei gruppi, nei gruppi dove ci sono gli addetti ai lavori. Abbiamo un'ottima reputazione, ma a livello mondiale, su scala mondiale, per questo curiamo bene i pazienti. Perché abbiamo i riflettori della comunità scientifica, anche oggi c'erano in clinica pazienti che non curiamo, non prendiamo in cura. Tutto parte dalla selezione del paziente. Non sempre puoi curare tutto, delle volte devi dire di no. Perché se dici di sì a un caso che ha il 100% di rischio di fallimento, è un boomerang. Ok, noi non ci serve fare cassetta e scappare con la cassetta. Abbiamo un progetto noi di corsi, di fare formazione. Questa è un'aula dove ci siete voi, ma poi si siedono anche i dentisti, i maxillofaciali qua. Facciamo la diretta con le sale chirurgiche. Mi posso permetterlo? Sì. Allora, se voi rinunciate a un caso, questa persona che è cliente, no? No, lo differiamo, tempo tra un anno si potrà curare. Ah, ok. Deve smettere prima dei farmaci, fare una preparazione, eccetera. Per rifiutare una persona, come avevo capito io, voleva dire cercare di non risolvere. Non poterla curare. Non risolvo, vai da un altro, così è finita. No. Noi ci sono ora delle altre pazienti, le sorelle che sono arrivate giù, che ora stavano entrando in sala, sono venute mesi fa. Prima di fare le cose che facciamo ora ho indagato prima se c'erano altre possibilità. C'era un altro paziente, Dario, questi giorni che era qua e faremo con lui invece dei corsi con delle tecniche nuove di ricostruttiva ossea che hanno presentato, per esempio, i giorni scorsi a Istanbul. Vediamo, ve le faccio vedere sempre qua che il gruppo mi aiuta. Andiamo qui, vi faccio vedere le, le, le. Ecco qua, queste sono le tecniche ora che sono state presentate per ricostruire l'osso. Sono delle placche. Questa era la situazione prima, quella di su. Stava, sono perso. Sopra è la carenza di osso che aveva e sotto come è stato ricostruito. A questo punto ora si possono mettere gli impianti. Così invece di fare dei dentoni lunghi faccio dei denti piccoli, ma cioè impianti che hanno tanto osso attorno. E questo non si sarebbe potuto ottenere prima. Ora si può ottenere perché hanno, con la tecnologia SLM, sdoganato tutta una serie di tecniche nuove che possono essere fatte con le stampanti 3D. Questa placca in titanio è fatta con la stampante in 3D. Queste placche prima non esistevano. Te le saresti dovute far fare custom dalla fabbrica di impianti, costi proibitivi. Non lo fai. Invece questa produrla costa quanto? Massimo 50 euro adesso. Quindi significa poter avere delle soluzioni tipo sudario che sono percorribili, permette di riavere i denti in caso di pazienti che sono stati meno matti da interventi falliti, andati male, oppure casi che prima non si potevano fare. Si apre tutto un grande ventaglio. Alcuni pazienti noi li facciamo con queste tecniche, altri pazienti aspettiamo, cioè se non siamo pronti aspettiamo. Se il paziente non è pronto si aspetta. Se i tessuti non sono pronti la protesi definitiva non si mette. Aspettiamo a condizionare ancora meglio i tessuti perché poi abbiamo l'equip marketing, vasile, ragazzi che devono fare le foto e video. Ogni paziente deve essere una star, ma non per fare la pubblicità per i pazienti, ma per la comunità scientifica. Che vantaggi ha per noi lavorare in questo modo? Per noi lavorare in questo modo significa attrarre cervelli e far crescere l'equip, risparmiare ancora più tempo e creare gap, vantaggio competitivo rispetto alle cliniche con cui ci confrontiamo nel mondo, neanche in Europa. Qua in città non è che noi abbiamo competitor nella città, noi ci confrontiamo ormai a livello planetario. Io so chi sono i miei guru, chi sono i miei riferimenti e ogni giorno ci competiamo con loro. Oggi vi faccio vedere per esempio la chat che ci ha avuto oggi con… è bello ogni tanto farvi vedere anche le nostre chat, 3D Smart Dent. L'avete vista il laboratorio qua di fianco? Ok. Questo 3D Smart Dent è nostro quello, noi elaboriamoli. Questi per me sono modelli di riferimento e li condivido con l'equip dei tecnici. Questi sono i nostri, sono belli questi? Sono bellissimi, ma non mi basta. Ok, noi ci confrontiamo con noi stessi il giorno prima. Questo per me non è lo standard, sì è ottimo, chiunque ci ha fatto i complimenti a livello mondiale, però i miei guru sono altri e io mi ispiro ai guru. Ok, io voglio questo livello di dettaglio, di biorealismo, di simulazione, di biosimulazione. Ok. Alziamo sempre l'asticella, so che sono tutti bravissimi, però io dico sempre fa schifo. E ci credono che fa schifo e si convincono che fa schifo, però poi ottieni il massimo. Questo è il miglior modo di allenare. Questi sono belli? Sono bellissimi, ma non basta, io gli dico che fanno schifo. E gli dico questi sono belli. Ok, questo è il mio guru. I denti? Questi perché sono naturali? Perché sembrano naturali? E questi sembrano meno naturali, perché questi sono imperfetti. Guarda l'incisivo laterale, non è speculare a quello, perché la natura è... Per esempio simulare la natura, emulare la natura, non simulare, emuliamo, noi la emuliamo con la protesi. Il protesista è un emulatore di quella che è la natura. Qual è il miglior modo per un pittore, per uno che fa i ritratti, di imparare a diventare bravo? Fai una foto e cerchi di copiare quella che è la natura. Loro quando fanno i corsi ci hanno i denti che noi estraiamo, ti dico ok, fammelo identico. Così impari a prendere maestranza delle masse delle ceramiche, a calibrare magari la texture della superficie. Quando tu arrivi a un livello di emulazione della natura, allora sei uno che è in grado di fare delle protesi che bioemulano a livelli di iperrealismo la natura. L'incisivo laterale è diverso da quello, quello di destra è più in alto, quella a sinistra è più in basso. Il canino, uno è così, l'altro è più rotato, così, i canini. I canini sono uno quello e uno quello. Questo è più rotato, quello invece è più così. Ok, questo dà la naturalezza del sorriso. La gengiva va ricostruita. Tu immaginati se non avessi ricostruito la gengiva. Come sarebbero i denti? Lunghissimi sarebbero questi denti. Fanoni? Ok, questi, com'è che si riesce a ricreare questa naturalezza? Le forme dei denti ce li abbiamo in delle librerie col computer, vengono scannerizzati i denti naturali, le forme dei denti creano delle librerie che vi faccio vedere. Per esempio, andiamo su Exocad Expert, foto, questo era il nostro caso, andiamo un po' giù, un po' giù. Ce n'era una qua, questa settimana scorsa che ho visto. Ecco, per esempio, no, questo no. Questo è un altro caso, qua l'avete visto prima, questo è un altro nostro caso. Questa è com'è fatta la struttura, eccola qua. Vedete, questa è come si realizza una protesi. Ci sono i pin che reggono i denti e poi ci sono le librerie 3D dei denti naturali che vengono caricate sopra. Poi la struttura interna si stampa in un materiale, quella esterna si stampa in un altro materiale. Poi la superficie, siccome vengono fuori da dei monoblocchi, può essere a mano dal pittore, può essere resa più naturale. Dall'iperrealismo, quindi dal full HD, torniamo al VGA. Questa è plastica. Ok, i denti monoblocco, questi monocolore. Plastica rubida, che fa anche biofilm batterico, che questo è il cibo che si attacca. Già si attacca lì, pensate sotto a dove c'era quella raccolta. Puzza la bocca del paziente? Puzza. Tanto puzza. C'è un problema di più... Ok, perché sono scelte di mercato? Ok. O perché c'è la gente che diventa sempre più istruita? Ok, a me arrivano anche messaggi, mi arrivano. Mi dicono, eh, basta prendersela con i dentisti dell'Albania. Perché chi manda a noi le richieste di preventivo, le manda anche da altre parti. Allora noi attacchiamo i talloni d'Achille. E il paziente inizia a chiedere, dire, ma sono abitate o sono cementate? E dice, no, sono cementate, non ho capito. Ok, però quello poi parla con altri. E si diffonde un modo di pensare l'informazione che protegge una comunità. Di persone che hanno quel problema. Quindi che sono abitati. Certo. Perché in Palermo adesso sono facendo prezzi molto bassi. Ah, aspetta. Sposto, sposto. Non filmiamo, ok, spostiamo, spostiamo. Così non inquadriamo. Prezzo per prezzo ormai mi diceva una paziente. Mi diceva che in Italia ormai si è arrivato a un punto dove non è prezzo qualità, ma prezzo per prezzo. Ok, cosa mi costa meno? Non guardano più la qualità, però rischi il danno medico legale. Questi, ok, sono protesi che monteranno sopra avvitate o incollate. Vediamo se carica la foto. Perché? Aspetta che rinquadriamo. Ok. Per quale motivo pendita e protesi incollata? Perché escono i perni dalla gengiva. Dalla gengiva non deve uscire nulla. Per quale motivo non deve uscire nulla dalla clinica? Dalla clinica, dalla gengiva. Ok, supponi che devi incollarcele sopra. Ok, le protesi ce le incolli sopra. Secondo voi la protesi che metti qua friziona sui perni? E se friziona, per quale motivo fa frizione? Perché è incollata. Sì, ma è lucida la superficie? No, è ruvida. È ruvida. Cioè, non serve la laurea. Se io devo mettere un cappello lì, c'ho spifferi sotto il cappello di aria oppure sigilla perfettamente il cappello? È spifferi. C'ha spifferi, c'ha. Ok. Perché usano sti perni? Per risparmiare. Vediamo, allora. Questi si chiamano impianti monofasici. L'impianto può essere di due tipi. Ok, monofasico o bifasico. Questo è un impianto monofasico, quello che vi faccio vedere adesso. Vediamo se ne trovo ad alta risoluzione. settings maggiori di mettiamo 1024. Ecco qua come è fatto l'impianto monofasico. Si vede? È un monoblocco. In un'unica fase. È una vite che si mette, tu immagina, è un tassello che metti ed esce già il perno sul quale devi attaccare. Ok. Questi sono degli impianti che costano meno. Perché costano meno? Perché ci sono meno pezzi, meno viti, meno componenti. Se io invece devo usare un impianto bifasico, ditemi se sono noiose queste cose o se sono curiosi, interessanti. 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 interessanti devono essere prese conoscendo le differenze tra, cioè quando va usato uno e quando va usato l'altro. Impianto bifasico. Mi sa che questa è la più grande e rende l'idea. Ecco qua, questo è un bifasico. Bifasico, monofasico. Bifasico. Forse non l'ho capito bene. Monofasico. Monofasico. Cioè è tutto un blocco, anche tutto unito a quello che esce. Allora lì praticamente se devi cambiare l'impianto devi tirare proprio su tutto dalla gengiva. La domanda è i denti che metti sul monofasico. Sono avvitati o incollati? Sono avvitati chiaramente. Certo, non c'è il foro per la vite. È un pistillo che esce dalla gengiva sul quale vai a incollare la protesi. Ok. Andiamo. Come è quello che tenga bene? Quello? Quello che... Il problema è che c'hai una macchina con le ruote incollate. Che c'è per caso, succede un problema. Che fai? Cambi la macchina. Io devo poterle svitare le cose. Supponi sempre il quadro, no? Se io ho il quadro incollato a muro ho il quadro che è avvitato a muro. Tu come li metteresti i quadri a casa tua? Con la colla? Noi li abbiamo messi con la colla. Noi ci abbiamo i quadretti che... Dopo, provateli a staccare. Sono incollati quelli. Staccare il muro. Abbiamo perso i quadretti. Abbiamo perso anche l'intonaco. Ok. Invece la vite rimane dentro l'osso. Poi c'è la componente di avvitamento che si chiama multi unit abattement. Lo snodo. Ok. Lo snodo che serve ad avvitare la protesi. In questo modo io sto pensando all'aftercare. All'assistenza dopo le cure. Soprattutto quando io faccio un'arcata come quella che abbiamo visto prima l'osso si riassorbe negli anni. La protesi va ribasata. Perdo 0-2 mm ogni anno. Quindi in 10 anni sono 2 mm. Svito. Mezz'oretta in laboratorio si aggiunge il composito. La riavito. Devo spaccare, tagliarla, togliere, rifare il lavoro e si possono anche danneggiare gli impianti. Guarda, noi c'è una paziente che ora dobbiamo fare che era stato un errore di valutazione che era un sorriso, un gummy smile. Era stato uno o due anni fa. Un sorriso gengivale e il laboratorio non aveva le fotografie o non aveva visto, non so come sia andato. Gli avevano fatto questa protesi con il sorriso gengivale. Quindi si aveva la gengiva e poi la protesi con la gengiva e i denti. Quelli sono i casi in cui la gengiva non va ricostruita. Se c'è il gummy smile, il sorriso gengivale oppure se va a filo che i denti sono già lì nel display non serve. Se invece c'è un sorriso e se c'è un molto sorriso gengivale sono i casi migliori quelli in cui noi tagliamo anche parte di osso. Lo liveliamo e mettiamo gli impianti più su. E abbiamo corretto i denti ma anche l'estetica. Dipende da che cosa. Devo guardare questo? No, devo vedere il frenulo dove è attaccato per capire dove sta. Perché poi ci sono labbi che sono più lunghi, più corti, ipermobili. Che fanno così e gli sale fin qua su. C'è Stefano, il nostro collega dell'aftercare. Fateci un nuovo sguardo, quello alto. Quando lui ride, lui ha l'ipermobilità del labbro superiore. Cavallo. Tira su e si vede tutta la gengiva. Lo rende speciale. Non è che la gengiva è brutta, è bella. Ognuno è diverso, è particolare. Devi capire però dove devi mettere i tuoi denti in quel viso. Lui ci sta, è un pochino cavallo perché? Perché c'ha il viso longilineo. È lungo, c'è il cilindrico, come l'Erch. Ok? Che c'ha il viso cilindrico. Dipende, ogni situazione se va simulata più o meno gengiva. Quello ci aiuta alle fotografie. Perché facciamo le fotografie prima a tutti i pazienti? Perché dobbiamo cercare di capire dove dobbiamo piazzarli, sti denti. Proviamo a aprire questa. Ok, altro lavoro questo fatto da noi. Ha perso molta gengiva questo. Però vedete sempre che ci sono i piattelli che vanno a intercettare lì dove ci sono gli impianti. Domande? Su tutto questo? Quindi denti avvitati o cementati? Dipende dove vai. No, dipende dove vai perché nel senso ci sono alcune cliniche, ok, questo chiudo perché tanto non è interessante, non è lo scopo. Io faccio un saluto a tutto il gruppo là, vediamo se nel gruppo ci hanno seguito, ci hanno fatto la pubblicità di una R. La foto è fatta prima di estrarre i denti e servono anche un pochino a questo. Vedi, Roberto ci ha seguito, bravo. Ti abbiamo risposto, Roberto, sì, le fotografie ci servono anche a questo. Perché con le fotografie che noi facciamo prima di estrarre i denti, andiamo sempre qua su Exocad Expert, andiamo su fotografie, ti faccio vedere quello che si può fare, si può fare, andiamo qua, andiamo se no sull'altro gruppo. Questo è un gruppo ancora ristretto dove ci sono i top 5% dei migliori designer, infatti qua ce ne sono 1.700, non 31.000, ok? Qua ci sono ancora i migliori, dei migliori e dei migliori. Andiamo a vedere sui membri. Ok, io sono tra i moderatori. Admin, sei. Brava, non volevo fare pubblicità. Chi sono questi? Questi, sono quelli con cui stiamo facendo gli studi di telemedicina. Ok, inviamo. In giro nel mondo. Come? Io è piano che vivo. Ok, ora devo andare qua, devo andare in India, devo andare a Timishoara, questo è Sibiu, ok, questo è giapponese addirittura questo. Ok. Siamo un gruppo internazionale che ci stiamo facendo l'invio dati con scanner facciale, eccetera, e stiamo facendo poi, avete visto i video che stiamo facendo, in linea su, stiamo facendo vedere alla comunità scientifica la possibilità di utilizzare designer che stanno dall'altra parte del mondo. Ok, che sono quelli che stanno facendo le cose più sperimentali, più avanzate. Perché in futuro è possibile caricare il paziente digitalizzato, faccia, impronte, scannerizzate, le carico in cloud. Lui apre tutto sul software, carica, fa il progetto e me lo manda indietro, io clicco e stampo. Questo apre una crepa a livello mondiale, a livello del mercato industriale delle macchine, a livello dei prezzi, perché si ha anche un abbattimento dei prezzi, un incremento anche della qualità. Perché io posso lavorare in equip, fare l'intervento, prima ancora di farlo, con un'equipe francese, spagnola, americana. Facciamo l'intervento, poi apriamo, tic, e monti. Riduzione dei tempi, sono tanti i vantaggi. Ma succede che posso anche piazzare a Milano un fresatore, che se si rompe una ruota ti mando il file o lo sportello della macchina che abbiamo fatto, il file, quindi a giro le leggi. Noi siamo fuori comunità europea, non posso mandare denti in Italia, posso mandare il file del progetto e tu te l'ho fresi. Chi mi l'ha data l'idea? In cinque ore c'è il pezzo. Ma è già così? Sì. Cioè, te? Sì. Ipoteri? Sì, sì. Facciamo qua, facciamo dei lavori, abbiamo un problema. Mandiamo i file e ci sarà Balzano. Ok, noi stiamo già proiettati alla telemedicina e quello che apre, le possibilità che apre. La telemedicina perché la esploro? Perché non ci dormo la notte quando penso ai problemi dopo le cure, all'aftercare. La soluzione è la telemedicina. Allora, per forza di cose, per necessità mi sono ritrovato a ruzzolare dentro la tana della telemedicina. Mi ha appassionato tanto la cosa, ho iniziato a viaggiare, a cercare, a creare il gruppo, a creare le connessioni. E ogni volta mi aspettano che vado per vedere e accendiamo. È arrivato un ragazzo da Londra questi giorni qua, Livio, ha visto quello che è il progetto. Lui vuole elaborare questo progetto, è venuto qua e lui sarà una star che è la connessione nostra del laboratorio con tutti gli altri. Queste cose che facciamo le registriamo? Certo che le registriamo perché le dobbiamo spettacolarizzare per la comunità scientifica. E la comunità scientifica è tutta con gli occhi così, ci sta guardando, sta a vedere le cose che pubblichiamo. E cosa succede? Che ci migliori, ne vogliono far parte. E ti attrai come un magnete i migliori, le menti, che vogliono giocare con i migliori. E' quello che quando noi costrivamo la squadra qui giù, facevamo in maniera tale che ci fossero i migliori materiali, le migliori condizioni, i migliori pazienti. Ok? Non prenderlo questo paziente se ritieni che non abbia capito il trattamento. Perché ti senti soddisfatta giocare con i migliori in campo. E questo chi me l'ha insegnato? Steve Jobs. Lui diceva questo, che quando tu metti i migliori a giocare con i migliori, succede una cosa straordinaria che gli piace. Perché non capita tutti i giorni di avere una squadra dei migliori. Io sono il migliore, ma anche io Eugenio è il migliore. Vasile è il migliore, Inge è la migliore. Iana è straordinaria. Lefko è straordinaria. Vadim, che si occupa della burocrazia, bravo. Oleg è bravo. Quella piccoletta è brava. Michela è brava. Tutti voi, rendetevene conto, tra di voi siete molto simili. Come noi siamo molto simili. Siete pazienti mediamente più istruiti, siete pazienti che si informano, non siete stati tirati al bar per la giacchetta, venite a curare da lui. E lui si prende il 15% perché ha reclutato un paziente. Quelle sono le reti commerciali che nella sanità non funzionano. Uno deve trovare. Allora, se tu ti esponi e fai vedere che sei il migliore, ti arrivano a contattare chi sono i migliori. Sono loro che ti arrivano a te. Se tu ti nascondi, non le freghi, perché chi fa le ricerche, sei mesi, un anno, due anni, capisce se lo stai fregando o no. Per questo noi facciamo informazione anche sul gruppo. Perché vogliamo entrare in contatto solo con persone che hanno capito e hanno studiato. Se no ci arriva che cosa? Un vespaio in clinica. Persone che non sono istruite, significa persone che non capiscono che gli stai dando, che ne so, il formaggio fatto qua. Non gli stai dando una cosa che ha la forma di formaggio. Se io voglio mangiare, lo diceva loro, la pizza, Caruso, è buona pizza. Pizzamania non c'ha la pizza, c'ha la forma della pizza. Quelli non sono denti, c'hanno la forma di denti. Ma se io voglio denti, c'ho bisogno dall'altro lato una persona che capisce. La cosa migliore è dare le informazioni. La cosa migliore è pubblicare la qualità che facciamo. Se noi facciamo vedere nella comunità quello che facciamo, abbiamo l'opportunità di crescere ancora di più e attirare come magneti. Chi lo fa in pochi lo stanno facendo. E quindi questo è un momento storico dove è facile entrare in contatto con i migliori. Perché sono nati da poco i gruppi nella comunità social. Facebook non è un giocatolo. Ti permette di entrare in contatto, venire trovato dai migliori che non passano oggi tutti su questo marciapiede qua davanti. Sono uno qua, uno di là, uno dall'altra parte del mondo. Ed è gente che in maniera attiva cerca, che è appassionata, che di notte sta con lo smartphone in mano e si cerca le cose. Poi vede quello e si ferma e dice, poi ti inizia a seguire, ti approfondisce. Vengo loro a trovarci oppure vado io a cercarli. Creare le connessioni. Per cui vedete che sono sempre in giro per il mondo, non vado a fare le mie vacanze. Ho paura ogni volta che mi prendo un aereo. Ormai ho fatto quasi tre volte il giro del mondo. Statisticamente sono lì. Questa è la telemedicina. La telemedicina significa cooperare in cloud. Il software che ci permette di cooperare in cloud è DentalShare. Immagini. DentalShare. Io posso condividere il progetto. Questo è come se fosse la BMW, il progetto della BMW da stampare. Se devi andare vai. Vai tranquillo. Quello è il progetto della BMW. Ok. È importante che l'ho fatto io il progetto. No, il progetto lo può fare anche un progettista che fa da mattina a sera solo progetti. Che sta magari in spiaggia a Miami. Importante è me lo mandi entro 24 ore quel progetto. Cosa faccio? Lo stampo subito definitivo? No, faccio una prova. Se ho modifiche da fare, taglio una parrucca. Quindi, poi quando la parrucca è ok, scannerizzo la parrucca. Ok, manda in stampa questo. Lavorare in cloud significa utilizzare anni e anni di esperienza rispetto a magari usare solo la tua di esperienza. Si chiama questa collaborazione. Quando tu collabori c'è magari i miei anni di esperienza. Quello che io non ho fatto questo perché sono un genio. Sono andato sempre da chi aveva già fatto le cose. Risparmio vent'anni. Vado da Zoltan e ho accumulati altri trenta. Vado da un altro che ha visto, che ha lavorato con altri trenta dentisti. Ha visto cosa funziona, cosa no. Ha fatto, guarda fai questo. Mi dice. E lui mi ha risparmiato tempo. Se devo andare a farmi tutti i corsi del mondo a pagamento, mi faccio un'indigestione di pubblicità farmaceutiche. Case farmaceutiche. Che pagano. Io vado dai tecnici, che sono quelli che vedono i casini, le rotture. Cosa funziona e cosa no. Perché chi me l'ha insegnato questo? Moldavia. Pratica, bate, grammatica. Perché la grammatica delle volte è sponsorizzata. Io vado da chi vede e fa le riparazioni e mi dice. Guarda, chi te l'ha insegnato questo? Lui. Dove? In Nicaragua. Ho risolto tutti i casi. Quando ho fatto quello non ho più avuto problemi. Poi vado a vedere. Sì, è vero, funziona. Tu che dici. Sì, anch'io ho fatto la stessa cosa. Vedi che torna. Va riscritta la Bibbia. Perché alcune cose che dicono, che pubblicizzano, sono o bolle, o speculazione, oppure push. economico per vendere degli scanner, delle cose. Devi fare molta, molta attenzione. La prima cosa, chiacchierata che io ho fatto con loro sotto è stata la dividiamo sempre ciò che è pubblicità da ciò che realmente funziona. Perché siamo noi a caricarci ogni mese di tutti questi probabili pazienti che possono avere problemi. Quindi ci serve cose pratiche che funzionano, cose sicure. questo è il software che utilizziamo per entrare in contatto con me. E noi cosa faremo? Io sarò in giro per il mondo. In India, per esempio. Oppure sarò a Manchester, oppure sarò, che ne so, a Francoforte, oppure a Madrid. Ricevo i file. E farò la parte di quello che non sa le cose. Cioè, sto girando il mondo per capire come diventare bravo e fare i progetti che faccio. Vado dai migliori. Dal top. Loro montano tutti i video. E seguono la storia. Perché la cosa va imbastita anche con una storiella da raccontare. simpatica che la comunità segue. Che però dentro lancia il messaggio. Fai vedere. Guarda come l'abbiamo risolto. Loro iniziano a accendere la lampadina e dicono. Ma lo posso fare anch'io? Posso usare questo software? Oppure ne puoi usare un altro? Ne svilupperanno? Ora è questo. Tra dieci anni un altro. Però ha delle implicazioni secondo cui nel mondo rimarranno grossi centri di produzione, tanti centri di assistenza. Chi ha tanta esperienza accumulata, vantaggi fiscali, si trova a lavorare in equipe invece che essere monoprofessionale, può lavorare in cluster solo su un tipo di trattamento. Noi facciamo solo cose complesse. Lo possiamo fare? Qua ci conviene farlo. Il paziente arriva. è d'obbligo fare ricerca. La ricerca scientifica è quello che sto facendo io. Studio, andare, vedere, chiedere, sviluppare, innovare. Che è quello che dovrebbe fare ogni Stato. Che fare ricerca significa essere rispetto a tutte le altre nazioni gap e vantaggio competitivo. Rimani sempre in vantaggio. La ricerca è fondamentale. Se io non avessi fatto i viaggi, le ricerche, non saremmo competitivi. Starei facendo plastica convessa. Concava. Curiosità. Loro sono molto curiosi. Quando noi prendiamo gente nuova, guardiamo negli occhi se è curioso o non è curioso questo. È uno che viene per lo stipendio, è uno che vuole indagare. Oggi ero con Fania, per esempio, c'è un paziente che ha una lama ai coltelli. Ho detto, ok, qua facciamo i superiusti, facciamo i corsi con questo. È rimasto così a pensare, ok, stampiamo il modellino e vediamo che validiamo. Quello ora me lo porta a Padova, domani dove vado. Faccio produrre una placca lì, una in Belgio e una la produciamo noi. E poi vediamo le discrepanze, come loro l'hanno risolto, come noi. Lui nel frattempo ora si studia la bibliografia, va a fare indagini e compriamo gli articoli e vediamo tutti la retrospettiva. Cosa è funzionato, non è funzionato e come l'avevano risolto. Poi andiamo a capire cosa non funziona, crash test. Dopo un anno è fatto comunque cose che non si fanno da nessun'altra parte. Però in quella bocca non si può fare niente. Se la paziente è d'accordo, tagliamo e facciamo quello che hanno fatto in pochi altri nel mondo. Se non funziona, svita, ok, abbiamo giocato, chiuso. Alternativa non si poteva fare nulla. Il paziente però viene informato prima, ma lo facciamo con chi l'ha già fatto prima, ok. Le mani saranno i progettisti, gente che già l'ha fatta in altre parti del mondo. Le faremo col digitale, le placche, stiamo parlando su peristè, che sono quegli impianti personalizzati in casi non convenzionali. Casi convenzionali usi impianti convenzionali, quelli cilindrici. Casi non convenzionali, per esempio, perdo parte della, devo fare una placca che sa vita, dal quale poi escono i perni, dal quale poi si montano i denti. Non posso usare più i perni perché non c'è osso. Quella va studiata con un grafico 3D, che è quello che ci è arrivato da Londra, che ha già fatto questi lavori. Quando lui ha visto quello che stavano facendo, ha detto, è lì che devo andare. L'ho cercato io. È venuto lui perché se io non avessi pubblicato le intenzioni, i video, eccetera, mesi fa, lì, non ci avrebbe trovato. Ma perché ho pubblicato? Perché c'è la curiosità, la voglia, la spinta interna. Se ti manca quella, nessuno ti viene a bussare alla porta perché non ti vedono, non ti trovano. È il stesso discorso delle informazioni. Più informazioni tu dai, più ti esponi a essere trovato. E questo ci permette di andare a produrre, ma anche a creare dei centri di digitalizzazione ovunque. E creare, possiamo anche creare, tu pensa, possono essere, il futuro può essere centri di produzione che danno poi i semi lavorati all'odonto tecnico, che è una parte intermediaria che dà il dentista. Oppure il dentista scannerizza, centro produzione, carica in cloud, il team outsourcing di designer che produce il design, la centro produzione che fresa e dà il dentista. Si rompe qualcosa, il dentista ha un'altra macchinetta fresatore più piccolo, scannerizza e stampa il pezzo. Oppure si fa mandare dal centro fresaggio il file che riproduce e monta in bocca. Viene bypassato l'odonto tecnico. Significa riduzione di costo. Riduzione di costo. Se non è più il dentista e basta. Io quello che vedo in futuro, vedo che l'odonto tecnico fa più un lavoro di impostazione del lavoro e di lucidatura del lavoro, rifinitura. Poi c'è il progettista che fa tutta la parte digitale, che sono designer industriali fondamentalmente. Che fai i vasi, che fai questo col computer, che disegni questo, disegni la struttura. Cambia il software, per i comandi sono sempre quelli. Mirroring, rispecchia, gonfia, scava, sono quelli i comandi. Quello che c'è difficoltà a trovare i designer. Non c'è nessuna università che già sta insegnando queste cose. Questa è roba che vi sto facendo vedere io. Se avete uno nella vostra città, un dentista vostro, fate una ricerca. Se lo trovate uno che fa queste cose, ditemelo. Vi sto facendo vedere cose che fra tre anni, cinque anni saranno la norma, la regola. Però siete in uno stato qua dove si fa ricerca, dove abbiamo investito molto in sviluppo e ricerca. Noi siamo avanti, sempre un passo avanti. E il passo avanti è questo, è digitale. Non viene insegnato nelle università. Ci sono alcuni corsi privati che lo fanno. Kiev, ci sono a Mosca. Ok, Betchmag, come avete visto l'anno scorso, ero lì a Mosca, per esempio. Loro insegnano Exocad. Se io avessi figli, gli manderei un corso di questo. Designing dentale. Perché è un settore dove c'è già tanta richiesta. Noi abbiamo difficoltà a trovare. Dobbiamo formare noi. Mandiamo ai corsi. Ma non ci sono sulla piazza. Non ci sono. Stanno facendo appena adesso tutti i tutorial. Addirittura le case software stanno sviluppando i tutorial per insegnare. Quelli ufficiali. Figurati, tutti i corsi che ci sono, sono tutti corsi non ufficiali. Per imparare a usare i software. Perché la tecnologia è andata talmente veloce, in un lasso di tempo breve, che c'è difficoltà. C'è difficoltà. Ci sono molti early adopter che stanno adottando inizialmente, in stadio iniziale, la tecnologia. Noi siamo anche tra quelli che, pionieri, stiamo adottando anche gli scanner facciali. Ora mi arriverà un altro scanner facciale dell'Affaro, che ha una tecnologia ancora diversa dall'altra e faremo anche i confronti tra i vari scanner, misurando le differenze tra una scansione fatta con quella e uno con questo. Quanto è un millimetro di discrepanza? Questo tre. Ok. Questa tecnologia è meglio. Sander Polanco, Los Angeles. Se eravamo in una stanza proprio con la Exocad, eravamo chiusi in quella stanza proprio a vedere un nuovo scanner facciale. Un nuovo scanner facciale che ha una tecnologia diversa, che non è né laser né infrarossi, è tipo blu-red o una roba del genere. che fa la rilevazione proprio anche dei denti allo stesso tempo. Un altro invece che addirittura ti prende anche, non solo una fotografia, perché è una fotostatica la scansione del viso. Questo riesce addirittura a rilevare i movimenti, a scannerizzare. Che è quello che serve a noi. Perché invece abbiamo una cosa da scannerizzare, il viso, che se io sorrido, la pelle qua mi si sposta. E se io mi prendo dei reperi, faccio due puntini qua, faccio la scannerizzazione così, oppure a riposo. C'è una discrepanza di tre millimetri tra il punto qua, fotografato, e quando sorrido. Ok. Questi sono i gap che stanno cercando di superare. Allora incrocio i dati con la TAC 3D, che è quella almeno fissa. Che loro, le case, stanno andando a cercare, i pionieri, ok, per chiarirsi anche loro le idee. Per esempio, il team Exocad, per esempio, eravamo lì in quella stanza con Sander Polanco. Io volevo sentire e mi sono reso conto lì che è veramente fantascienza. Perché anche chi sta creando i software ha bisogno di sentire l'opinione di chi sta facendo i test per capire in che direzione sviluppare il software. E fanno delle conference con tutti i vari pionieri, che anche loro dove li trovano su internet. Fanno delle private room di un'ora, dove loro fanno il pitch e espongono quella che è la tecnologia e lo studio che hanno fatto. E loro cercano di capire. Ok. Quello ormai è già stato scoperto tutto. La tendenza per quello, ero in Germania, IDS, lo show più grande che c'è al mondo. Tutto era il 40-50% della fiera, erano tutte nuove stampanti. Stampa dei materiali, stampa 3D dei materiali, che è la nuova rivoluzione industriale. Significa, è un sconvolgimento. Perché se io mi posso stampare la scarpa, capisci qual è la rivoluzione industriale? Stampa dei casi. Siamo di fronte alla scomparsa di alcuni mestieri, all'accentramento della produzione di alcune cose. Non è crisi. Io ci ho fatto un film su questo, proprio perché non è crisi, ma è rivoluzione. Che se non sei pronto, ti estingui. Cioè rischi di essere quello che non ha capito in che direzione va. Chi capisce in che direzione va? Il Livio, che viene da Londra qua. Quello che non ha voglia di... Si estingue, perché ci sarà un nuovo meccanismo di produzione dei servizi che non prevede te. Cioè non ci sei tu lì. Ma non è crisi. Tecnologia. Significa fare molto con poco. Dove ci sono... Quando dicono... Io ora mi sono reso conto perché il mondo va sempre verso il più, dove in pochi hanno tanto e in molti hanno poco. Per quale motivo? Perché non c'è la formazione. La forma mentis. Quindi le persone non sono imparate, diciamo, non sono addestrate a cogliere il cambiamento. Se non si è addestrato... Non solo per quello. Purtroppo ho diffidenti, eccetera. E allora quello che succede è che rimani... Diventi non competitivo. Chi è invece addestrato a cogliere il cambiamento, rimane competitivo, anzi è sempre lì sulla cresta, perché c'ha delle informazioni, che se le va a prendere le informazioni. Perché se aspetti che l'università mi avesse insegnato tutto questo... Anni fa, quando feci il primo... Fine anno qua, regalai a tutti i dottori il pennino. Con tutti i pdf. Tutti i libri. Massironi, Fradeani. Tutti i libri da 300-400 euro. L'accesso alle informazioni. Sono tornato quando era l'anno scorso, volevo salutarlo proprio per ringraziarlo. Io senza quell'uomo non sarei qua, perché avevo una fame di curiosità. Lì in biblioteca ho conosciuto altre persone che mi hanno poi portato in America lì. Io in cambio gli facevo il sito web, perché sapevo fare il sito. Lui ci aveva... Però era studiato, sapeva dove... E mi portava dalle persone giù. Stavo, segui lui, segui lui, lascia stare quello, quella è pubblicità. Io volevo salutare. Vado, chiusa, spostata all'università. Ho detto, c'è... Vabbè, andiamo là, gli hanno ampliati. Vado lì, poi la biblioteca. No, ora, corpata insieme a quella. Vado lì, c'è Gedo. No, non c'è, non lavora più qua. La biblioteca. Volevo vedere... Ah sì, sotto, li hanno messi chiusi, sotto il ragno, i libri. Hanno fatto sparire i libri. La libreria. La denuncia. Una delle migliori librerie che venivano da Roma, da Torino, da Venezia. Venivano per le riviste che c'erano lì, in abbonamento. Libri gratis proprio. Perché l'informazione ti dà competitività. Ti servono ignoranti. Esci dall'università ignorante che c'hai meno... Più gente che fa danni e tu devi riparare i danni. Capito? Gli fai credere anche che tu sei bravo. Insegni poco. Quindi la carenza di informazioni li farà sentire in difetto e quindi meno bravi di te. Quindi all'improvviso tu diventi più bravo. Ma perché loro non gli hanno insegnato niente? Ok? E allora me le dicevano a me queste cose. Dicevano aprirti lo studio qua in Vattene, dalla Sardegna. Io ero bravo ad ascoltare e chiedere a chi era più grande di me, chi aveva più esperienza. La mia fortuna, non aver avuto il padre dentista, non aver avuto lo studio. Meno male, se avessi avuto padre dentista sarei... avrei avuto solo una visione del mondo. Invece ho avuto tante visioni del mondo e buoni consigli che tutti, chissà perché mi dicevano, tutti vattene. Decolla, lì sotto i piedi mi dicevano, vattene lì, perditi due mesi a Boston, perditi un anno di là, vai a Los Angeles, mi conta, mi fai il giro sempre più largo, alla fine tornava e era sempre più stretto. Questa è anche la storia di chi si ritrova anche a sapere troppo. A volte l'ignoranza è un bene che è meno scelta, però quando poi sei troppo e ti rendi bene conto di quello che succede, dici ma io me ne vado là. Ok, perché un pazzo direbbe a Livio ma che tu da Londra te ne vai a vivere a Chisina. Stai a Londra, stai sulla Giovane, c'hai moglie e te ne vai a Chisina. No, perché lui ha capito dove va il mondo, ha capito che a Londra non le fai queste cose, fai il ponticello, fai. Ma se lui vuole diventare un guru a livello mondiale deve salire sul nostro carro. Il problema è che poi per fare queste cose a Londra cambiano i prezzi. Più alti dici o più bassi? Più alti. Ha pressione fiscale al 55%. Non solo quello. Non ha competitività. L'unica competitività che è per il fatto, non so, per le società di capitali, queste cose qua, insomma, per quello che c'è stata la Brexit. Però a livello odontoiatrico, uno che vuole fare eccellenza, qualità e lavori complessi, non ha senso che viva là. è un'opportunità per avere una vita migliore per i tuoi figli. Qua crescono bene i figli. Crescono le viste, le zucchine, le melanzane. Naturali. L'obiettivo è quindi che cosa? Eccellenza. Va bene. Vi ho spiegato oggi un pezzetto, una storiella con dati, con fatti, che esistono due modi di vivere al mondo, che è o fine a se stesso, per fare cassetta, per arrivare a fine giornata, a fine mese, pagare l'empan, pagare le tasse, eccetera, oppure perché vuoi davvero lasciare un impatto, l'impronta, fare qualcosa di entusiasmante. Io saluto ora il gruppo, chiudo la diretta. Oppure c'è la possibilità appunto di fare la differenza e vivere un'avventura con un gruppo che diventano anche la tua famiglia, diventano le persone con cui passi Natale, Capodanno, con cui giriamo il mondo, con cui facciamo i corsi. Suoniamo la nostra musica. Ok, vogliamo suonare la nostra musica. Tutti devono essere liquidi, importanti. 80 cervelli. A me non mi vedete mai operare per questo motivo. Ho detto stamattina, mettiti qua e fai crescere gli altri. Così cresci una squadra. Tu pensati se l'allenatore dovesse giocare a posto di tutti i giocatori. E l'allenatore che ti dice bravo, ti dice fai schifo, migliora. Ci sono, non è quello lo standard. Ok, anche oggi vado sul dottori, no, sui tecnici, il gruppo tecnici, eravamo a 3D Smart, gliel'ho detto, Phil Reddington, gli ha detto, questo è il mio guru. Lui mi ha detto, no, ma zolta, eccetera, hanno mai molta più esperienza. E gli ha detto, no, non è esperienza, è molto più dedizione. Ok, occhiali ingrandenti, gli ha detto, non vi vedo con gli occhiali ingrandenti. Usate gli occhiali ingrandenti, voi fate gioielli di lusso. Ok, non state facendo denti. Hai visto un orefice senza gli occhiali ingrandenti? Perché sono lavori molto piccoli. Ok, se io voglio l'iperrealismo, gli ho detto, 4x, 4 volte più dettagli, gli ho detto, basta, non voglio vedere lavori VGA, gli ho detto, voglio lavori full HD. Ok, io con un'immagine rendo l'idea, ti faccio l'imprinting, sono bellissimi lavori, nel senso che sono ottimi, ma io voglio l'eccellenza. L'eccellenza, abbiamo occhi, la tecnologia è nostra, cercate di fare un lavoro in formato full HD, 4K anzi, ora è full HD, poi passiamo al 4K. Stati tutti in silenzio dopo. Hanno capito il concetto. È un'immagine che rende quello che voglio, spronare sempre di più. Poi cosa ne fai? Ne metti uno che è eccellente, allora iniziano a vedere e dirà, diventa il motivo di ispirazione, però loro sono già una squadra eccellente.